Oggi io e il sindaco di Bolognano abbiamo voluto essere presenti qui in Vianelli a Piano d'Orta, frazione di Bolognano per l'avvio dei lavori di bonifica e di rimozione di oltre 150 tonnellate di rifiuti pericolosi che giacciono in Vianelli da oltre 10 anni. Giornata sicuramente importante perché conferma la grande attenzione che la regione Abruzzo dal giorno dopo del proprio insediamento sta mostrando nei confronti delle grandi problematiche ambientali. Però non possiamo esultare in maniera totalitaria perché ogni volta che parliamo di dare risposte a danni causati contro l'ambiente non si può esultare perché vuol dire che il territorio è stato martoriato per troppi anni, e questo è un territorio al pari del Comune di Bussi che è stato martoriato per troppi anni, danni all'ambiente e alla salute dei cittadini della zona che mai saranno risarciti dei tanti torti e danni subiti. Le vicende dei siti inquinati dimostrano come il fattore tempo abbia avuto e abbia ancora un peso preponderante perché si sta parlando da decenni di siti inquinati e oggi i veri inquinatori non hanno ancora pagato e i cittadini stanno ancora combattendo contro un sopruso che è stato fatto nei loro confronti e principalmente contro la loro salute.